Io sono una persona educata, le do di lei e la chiamo signor Parenzo Lei è un alcolizzato No, è da vedere, sono alcolizzato, però le posso solo dire Sono il dio della gaina con tanti discepoli che mi seguono a migliaia e dico a migliaia Ah, cagare Queste emoji Comunque, mister o signor Parenzo, Parenzo come vuole che lei sia chiamato Io sono 15 anni che faccio la Milano-Como per andare a Svizzera a giocare al casino Sai che sono 15 anni che per tre gallerie di merda ci sono i lavori in corso Io quando torno a casa a volte devo fare tutto il lungolago, devo fare il giro turistico Perché sono 15 anni che non sistemano tre gallerie Ma dove siamo? Questa è l'Italia